Ciao a tutti amici di Legnano News, bentrovati, eccomi qua, sono ancora io Federica Ferro, qualcuno mi conosce già, qualcuno non mi conosce, ma l'anno scorso abbiamo fatto insieme al pubblico di Legnano News un percorso, un percorso nella nostra rubrica Smart Ambiente e quest'anno ricomincia, ricomincerà infatti il primo mercoledì di febbraio, da febbraio a luglio. Quest'anno la rubrica ambientale sarà divisa in maniera un po' diversa rispetto all'anno scorso, prenderemo infatti un argomento al mese e lo suddivideremo in settimane. La prima settimana avremo il format che cosa ne sappiamo noi, ossia l'intervista al cittadino, mi troverete infatti nelle piazze, nei luoghi di Legnano a chiedere proprio a voi che cosa ne sapete riguardo a un determinato argomento. La seconda settimana avremo il format invece che cosa dovremmo sapere, quindi una sorta di spiegone fatto dalla sottoscritta in merito sempre all'argomento scelto del mese. La terza settimana invece abbiamo il format che cosa possiamo fare e sarà una sorta di eco routine, quindi dei consigli che vi darò per migliorare e rendere più sostenibile la vostra routine, sempre in merito all'argomento scelto inizio del mese. Ed infine, l'ultima settimana avremo un'intervista con l'esperto, ovvero il format che cosa ci dovrebbero dire. Bene, spero che questa nuova suddivisione vi piaccia, sia interessante, sia più coinvolgente. Io vi aspetto il primo mercoledì di febbraio, vi mando un bacio, ciao!